La vita delle persone è fatta di piccole cose La vita delle persone è fatta di piccole cose La vita delle persone è fatta di piccole cose Intervista! Mio bambino è in due anni e mezzo Ma non ho chiesto nulla in cambio Fare io Basta Fare io Basta Fare io Basta Perché mi hanno ricattato Perché mi hanno ricattato Però non c'è da fare io Ma non ho chiesto nulla in cambio È ciò che si deve fare Punto